...che vengono nelle mani il governo delle nostre società, vale a dire i governanti degli stati, dei parlamenti, dei paesi, dei popoli, per quei che ci riguarda l'Italia e l'Europa... ...che poi è una delle canzoni che il pubblico di Liga 2 e nel quale il pubblico di Luciano poi si diverte di più a cantare nei live. ...dice perché stai raccontando questa cosa stamattina su Radio Chistital? Perché sono, e lo ammetto, Robert Robby Musella è un fan, spiegato... ...perchiamo di segnalare in questa pubblica e tra l'altro di Gentile si è riparlato in questo livello... ...Padre, ricco di misericordia, ascoltaci... ...O Dio, che mochiamo, perché Jesse, quanto prima... ...altri zero, gli altri due volori, a vedere se... ...insieme fino a mezzogiorno con il meglio della settimana, vai! ...oh ma... ...cento per cento musica italiana... ...questa musica anisola in mezzo al mare, basta chiudere gli occhi e venerà da te, non nascondermi... ...lo scelgo... ...e quando mi aveva chiamato Lucina... ...ciao... ...ciao Augusto... ...altrove anche... ...Maverick Vignales, per esempio... ...in nome di Battesimo... ...GP di Battesimo si chiama... ...Vignale Ascolti... ...è vero questo messaggio, l'ascoltatore... ...Fabio della Reggio Emilia... ...le mie amiche del liceo mi raccontarono che avevano imparato a baciare guardando Top Gun... ...c'è una scena in controluce, a letto... ...dove si vede... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.